buongiorno roberta ciao marco come stai bene grazie allora siamo pronti allora ho avuto la foto abbiamo visto la foto quella di un turno che poi non sono riuscita a farla con quelli di cucina che guarda trovare quel 30 secondi per fare la foto è stata fatica immagino immagino ma c'era anche la tua mamma e la tua mamma quella vicina a te no quella mia sorella la più grande a tua sorella esatto sì 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 eccola qua sì ecco sì sì beh sì in effetti adesso l'ho vista al volo ma adesso la vedo tua sorella ci sta perché c'è in famiglia solo tua sorella o anche altre famiglie non verità siamo tutto c'è anche mio fratello mio cognato in cucina siccome sì sì e poi mio padre mia mamma di là la reception per quanto riguarda tutto il discorso gestione della spiaggia insomma la bella struttura dai sì sì allora siamo arrivati alla fine ultimo giorno ultimo collegamento com'è andata bene guarda stato divertente bene ogni tanto ti sei rivista su internet si è andata a vedere ma che ma guarda ti giuro non c'è tempo manco di respirare niente lo farà in agosto in ottobre a natale quando sei a riposo tranquilla allora guarda che roba stamattina Marco vediamo che bello sì 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 che spettacolo è sempre trasparente poi il mattino sì 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 ora c'è un cliente che pureta morto mi diceva sempre io Roberta vengo la mattina presto perché ancora nessuno ci ha fatto la pipina qua come notizia oggi Roberta ho questa stop a giochi pirotecnici e falò in spiaggia a Romana c'è uno spettacolo mi pare lì in piazza e ci vorrà il Green Pass questo è la notizia mi pare giusto ecco tutto qui va bene grazie a tutti oltre a tutti i cari telespettatori di faro tv sul canale 17 in tutta la regione Marche c'è occhio giornali la rassegna stampa il commento alla stampa del giorno che comincia tra un istante prima il santo di oggi san massimiliano colbe un santo amato da tutti in tutto il mondo il sole sorto alle 6 e 10 tramonterà le 20 e 16 ma attenzione vi devo dire anche che è il beato sante da urbino brancorsini quindi la festa anche del beato sante andiamo a vedere il tempo schermo pieno per la nostra meravigliosa regione Marche con il sole che splende su tutto su tutto il territorio da nord dalla punta su in alto fino al sud della regione a est a ovest nord sud sole 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 per vedere un po di pioggia attenzione quindi non vi sto far vedere domeni domani insomma tutto sole fino a martedì quando martedì ecco qua la previsione di tre bimeteo vedete mattino iniziano le piogge temporali anche sulla costa meridionale ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni intanto ci godiamo queste giornate di sole splendente e lo facciamo anche grazie alla nostra roberta pincini dai bagni marino di numana che per quest'ultima giornata ci si collega con noi come tutte le mattine allora guarda che splendido mare questa mattina roberta l'invidia è tanta buongiorno a tutti eh sì un'acqua stamattina veramente meravigliosa guardate pure bella trasparente eh già eh già eh già senti allora roberta intanto grazie per questa settimana grazie a voi ci hai tenuto compagnia dalla tua splendida spiaggia vogliamo far vedere la foto di gruppo che tu ci hai inviato una parte dei tuoi collaboratori giusto sì 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 questo era il day shift il giorno il turno diurno sì perché poi come hai detto insomma siete molti di più ci sono anche i tuoi genitori quella di fianco a te per chi è già molto più fisionomista di me eh potrà notare qualche somiglianza è tua sorella vero esatto la maggiore dei tre come si chiama diciamo anche il nome claudia ecco per c'è anche qua dicceli un po dai fai i nomi di tanto sono pochi dacci i nomi dei tuoi ben da sinistra c'è Sara Iosef Lorenzo Ben ehm c'è Eslin e la ragazza che ha fianco a me è Vittoria Vittoria e poi ci sono tutti gli altri che salutiamo ovviamente ma che non compaiono non compaiono perché stanno dietro le quinte come si dice va bene allora eh come notizie invece sui giornali posso dirti che sul Carlino di Ancona pagina tre si ricorda che a Numana eh così come in molte spiagge ma insomma non ci sono i fuochi d'artificio quindi stop ai giochi pirotecnici ai faloni in spiaggia c'è uno spettacolo tra l'altro questa sera lì da voi a Numana alle 20 e 41 alle 21 in piazza ti risulta sì e sì sì ahimè peccato che ovviamente per i motivi covid non si può fare perché di solito ci sarebbe stata la processione in mare con poi lo spettacolo pirotecnico ma niente da fare è inevitabile no anche quest'anno tra l'altro per accedere in piazza c'è scritto bisognerà avere il green pass quindi si invitano gli spettatori ad arrivare un pochettino prima insomma un quarto d'ora prima per non far ritardare lo spettacolo che dire Roberta grazie di questa di questa grazie a voi settimana insieme magari ci rivediamo il prossimo anno grazie e buon lavoro molto volentieri grazie buon lavoro a te e a tutti quanti voi buon ferragosto buon ferragosto ciao allora iniziamo la nostra lettura dei giornali intanto vi ricordo che la rassegna stampa lunedì non andrà in onda perché chiaramente non ci saranno i giornali in edicola quindi l'appuntamento per martedì lo dico in anticipo allora andiamo a vedere i giornali cominciamo dal calino di pesero tamponi le calecca anche a scuola la regione annuncia l'arrivo di 500 mila unità per evitare che torni lo spettro della quarantena nelle classi domani invece sfioreremo i 37 gradi da mercoledì arriva l'aria più fresca come abbiamo visto ecco il viaggio nella città bollenta centropagina però la notizia foto notizia è per un gruppo di ragazzi che pochi giorni fa lungo il bosso in località trepozzi si è ritrovato per fare il bagno al fiume dove l'acqua è più verde ferragosto tra mare e monti ecco le mete più richieste poi meno ricoveri più contagi ma dopo mesi tornano i morti sono due persone con patologie pregresse incendiate invece due auto di un noto macellaio misterioso episodio vicino a lucrezia di cartoceto poi quattro furti nella zona di villa fastigi banda di ladri in azione nelle case di campagna questo invece il corriere adriatico edizione sempre di pesero il free ferragosto passa per i test in 350 nella giornata di ieri si sono sottoposti allo screening per la certificazione temporanea il boom è atteso oggi sono soprattutto giovani che vogliono partecipare ad eventi in spiaggia mentre la foto principale del corriere di questa mattina riguarda un'intervista al governatore delle marche francesco acquaroli il quale acquaroli dice il modello mancini per le mie marche ma parla anche di sanità marche nord non contratto con il partito democratico con il pd ceriscioli va da rivedere tutti i tagli fatti nella sua pesero per quanto riguarda castelli invece lui dice non fa ombra e l'intervista di andrea taffi sul corriere adriatico la vedete in queste due pagine anzi possiamo fare così ecco facciamola vedere tutta intera così come ecco fosse il giornale il modello mancini per le mie marche il sogno è la guinza la galleria che è la incompiuta la madre di tutte le incompiute proprio a livello italiano il governatore acquaroli a 11 mesi dalla sua elezione dice rifarei tutto quanto il ct azzurro è andato oltre lo sport ci ricorda il nostro grande valore su marche nord mi confronto con ricci il sindaco di pesero ma niente accordi con il partito democratico per quanto riguarda la sanità dice del suo assessore di riferimento filippo saltamartini dice sono soddisfatto di saltamartini anche perché ci diciamo le cose tutte in faccia e di castelli invece se castelli fa bene non mi fa ombra ma aiuta la giunta piuttosto sarei stato preoccupato del contrario poi condivido il giudizio della meloni su draghi ma se roma ci dà soldi è un livello differente terremo marche nord ma la miglioreremo integrandola con il tutto il territorio e poi non c'è ragione ora di discutere i manager sanitari conta il piano sanitario poi vedremo questa è una diciamo in sintesi gli argomenti trattati nella intervista che troverete sul corriere adriatico il resto del carlino invece andiamo sull'edizione di ancona perché c'è una notizia che davvero a leggerla fa venire i brividi il titolo punta da una siringa sarà il mio calvario ve l'ho segnalata ve la segnalo questa mattina perché è qualcosa che può capitare davvero a tutti perché tante sono le siringhe in giro esparse per il territorio incautamente ma sono tante dicevo e potrebbe capitare davvero e quindi bisogna fare attenzione la lei è enrica schettino che sta vivendo davvero un vero calvario per colpa di questa siringa abbandonata a terra e lei dice sarò costretta ad un anno di esami medici l'intervista di giacomo giampieri il giornale quello di ancona quindi quelli che stanno nella provincia di peso urbino non lo troveranno in edicola ma comunque che cosa dovrà fare enrica da adesso in poi sottopormi fino all'estate del prossimo anno quindi del 2022 ad accertamenti medici clinici oltre al fatto che dovrò prendere dei farmaci per prevenire scenari terrificanti come l'hiv l'epatite eccetera insomma vivrò con un vero fardello sul gruppone e con la testa proiettata sempre a quel maledetto martedì dovrò prendere un farmaco potentissimo dice ancora la ragazza per un mese prevenire il contagio d'hiv da epatite hanno tempi di incubazione più lunghi di alcuni mesi ma la cosa davvero che le fa onore è che dice lei senza puntare il dito contro i tossicodipendenti dice serve vigilare innanzitutto sui luoghi pubblici ma soprattutto aiutare chi è in difficoltà e chi si droga non c'è una parola di condanna non c'è una parola di condanna contro chi ha lasciato lì queste queste siringhe perché dice in sostanza sono persone che già vivono si annullano di per sé per conto loro perché chi si droga ha già il destino segnato ma è importante ed è un bel messaggio quello che ha dato Enrica Schettino appunto di non condanna ma soprattutto magari di controllare meglio anche chi aveva già visto queste siringhe e magari si è girato dall'altra parte magari non le ha segnalate ecco forse queste sarebbero più da condannare l'indifferenza siccità aset mette mano i pozzi siamo sulla pagina di fatto del resto del carlino qui interviene paolo reginelli che è il presidente di aset progetto da 800 mila euro per abbattere i nitrati e avere riserve idriche ma la vera soluzione è un altro invaso questo è quello che serve l'assessore regionale Aguzzi dice prendo atto delle perplessità per il sito del Candigliano ma basterebbe una struttura contenuta intanto ci ricorda Reginelli da mercoledì il prelievo dell'acqua del pozzo del Burano è passato da 150 litri a 300 litri al secondo a cui vanno aggiunti 150 litri al secondo del pozzo di Sant'Anna un aumento spiega Aguzzi reso necessario perché il quantitativo precedente non era più sufficiente a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile nei due pozzi non c'è stata alcuna diminuzione della pressione mentre il fiume Metauro si è stabilizzato fino alla foce torna la piccola Sanremo dell'Adriatico i due giornali ne parlano questa mattina sia il carlino che il Corriere noi prendiamo la pagina del Corriere del Carrino questa mattina pagina 16 dopo 30 anni di stop riparte il Festival della Fortuna il concorso Canoro nazionale che è stato trampolino di lancio per tanti artisti sono 15 cantanti in gara per le due sezioni editi e inediti e premio della critica la giuria tra i giudici c'è anche Anna Bischi moglie del compianto musicista Ivan Graziano Ivan Graziani e insomma questo festival che inizia questa sera a Fano dall'anfiteatro Rashtat che è l'anfiteatro che si trova lungo la spiaggia di Sassonia oggi e domani intorno alle 21.15 per chi non potrà esserci e naturalmente i posti sono limitati c'è un biglietto che costa 5 euro questa sera e domani 10 ma i posti sono assolutamente limitati per tutti gli altri c'è la diretta televisiva di Fano TV a partire appunto dalle 21.15 circa per garantire a tutti la possibilità di ascoltare della musica e vedere appunto questo festival che torna dopo 30 anni Alzheimer, ora le famiglie invocano il Vescovo, il Vescovo è quello di Fano l'associazione AIMA ancora in cerca di una sede dopo lo strappo con il Comune l'appello di Schiaroli va trovato un compromesso mentre questo misterioso incendio sulla pagina 18 del Carlino che ha visto così protagonista un macellaio conosciuto di Lucrezia incendiati i jeep e furgone di un macellaio, questo è il titolo Lucrezia completamente distrutti i veicoli appartenenti a Michele Francolini che gestisce a Ponte Sasso una delle tre rivendite di famiglia l'amarezza del titolare lui dice non ho nemici né debiti né penso di aver fatto torti a qualcuno i volontari invece appesero tornando alla siccità per salvare i pesci dai torrenti senza più acqua guardate questa fotografia del torrente certano a Cagli restano soltanto le pietre beh succede appunto nella zona di Cagli un'ordinanza contro gli sprechi si allunga dunque la lista dei comuni mentre Sanità la Regione toglie soldi a Pesaro il consigliere Biancani dice nessuna garanzia su Marche Nord proteste e disagio al poliambulatorio è quello di Fano, Palazzo di Vetro lo vedete fila di 80 persone per il nuovo medico organizzazione flop e caldo ore di attesa per notificare il sostituto del dottore che è andato in pensione burocrazia poco spazio e online insufficiente affollamento anche se all'aperto evitabile sotto invece fumante campanili distruttivi per Aset il consigliere del PD dice riaprire il dialogo con Marche Multiservizi Carboni invece auspica il dibattito case di campagna nel mirino dei ladri furti a raffica quattro colpi in poche ore i ladri hanno agito a Villa Fastigi di Pesaro rubati oro e gioielli per alcune migliaia di euro indagini dei carabinieri forzate porte e finestre nessuno aveva la protezione da antifurto e poi pericoli incendi niente fuochi né barbecue fioccano le multe alle Cesane vicino Fossombrone, vicino Urbino il monito delle guardie ecologiche vietate anche la circolazione dei mezzi fuori strada e adesso la pagina 15 dove il Corriere Adriatico torna su quella polemica che riguarda la campagna promozionale di Cattolica che sta in Romagna ovviamente e che ha utilizzato il parco del San Bartolo che invece sta a Pesaro quindi nelle Marche per farsi un po' di promozione questa cosa non è andata giù non è andata giù ai sindaci del Pesarese allora San Bartolo Cattolica si smarca sorpresi ma quel video non è nostro Pascuzzi ribadisce aspetto le scuse il promo è ingannevole il sindaco della Regina dice l'organizzazione è esterna come dire se poi ci hanno messo il San Bartolo non è colpa nostra l'utilizzo del parco ha riacceso tensioni per collaborazioni finite e mai riprese tra i due comuni ancora sul Corriere scelte dettate dal Green Pass qui siamo sulla pagina di Urbino festa del Duca senza contorno e locali chiusi in anticipo le motivazioni del sindaco Gambini impossibile coinvolgere commercianti avremmo avremmo dovuto fare controlli sulle cinque porte delle città e poi Urbino Calcio uniti sotto i Torricini valorizzare i giovani questa società militerà in eccellenza riunendo due società Santi dice stesso segno allora andiamo adesso invece sulla pagina di Senigallia ancora un'altra discoteca chiusa dopo quella di Marotta il Miu quella di Gabice la Baia Imperiale adesso tocca ad un altro locale il Mamma Mia di Senigallia chiuso per due settimane scatta il provvedimento della questura stop dopo i disordini la spiaggia di Valluto resta senza locali per la notte di Ferragosto due coppie aggredite da un gruppo mentre si trovavano nella loro autovettura nella loro auto e poi un turista che è stato colto a Senigallia da Malore un turista che è stato rianimato è andato in arresto cardiaco l'uomo è stato portato all'ospedale trovato con la droga invece denunciato un trentenne il giovane aveva con sé anche un coltello controllo in serie della polizia anche in vista del Ferragosto e sempre da Senigallia ricercato era ricercato per tentato omicidio ma era appunto in vacanza il quarantenne è stato arrestato dai carabinieri mentre soggiornava in un camping con la famiglia portato nel carcere di Monte Acuto e poi ancora polemiche strascico di polemiche su un concerto di Povia che è stato annullato a Senigallia tutta colpa del PD dice il cantautore il cantante se la prende con buon prezzi e campanile sono pro green pass e tutto ciò che c'è di illogico in Italia e poi la guerra Fano Lega Pro Lega Pro è la Lega di calcio Ghirelli dice adesso però basta il presidente accusa la società fanese Granata di gestione degli atti anomala la replica del nuovo proprietario russo dice avanti con il tribunale amministrativo della regione ma non siamo fessi e allora tra l'altro il fatto che il presidente della Lega Pro Ghirelli che vedete in questa fotografia ne abbia le scatole piene è perché dice che oggi si conferma la decisione di portare in assemblea tra fine agosto e inizio settembre proprio la proposta di non fare più i ripescaggi così ce la finiamo con tutte queste polemiche che ogni anno ci sono in questo caso ovviamente il problema è che il Fano secondo il Fano ci sarebbero stati delle discriminazioni qualche altra società sarebbe stata vantaggiata in realtà il presidente della Lega risponde e dice no avete prodotto semplicemente male anzi in maniera non professionale avete prodotto documenti che erano necessari uno in ritardo qualche giorno in ritardo poi stranamente con due perizie che nella prima erano con dei dati che non andavano bene nella seconda sempre con la stessa data con dei dati invece corretti che andavano bene per il nuovo stadio tutto è riferito all'illuminazione in particolare alla struttura illuminotecnica dello stadio Mancini di Fano tutto si gioca attorno a quel concetto poi abbiamo visto i giochi pirotecnici in spiaggia che così come a Falconaria Romana non ci saranno in altre località della nostra regione quindi sarà un ferragosto come dire un po' sottotono ma insomma questo è allora vi ho già detto che la rassegna stampa lunedì non ci sarà quindi noi ci vediamo martedì mattina sempre alle 7 questa sera alle 21.15 c'è in diretta così come domani sera stasera e domani c'è in diretta da Fano dall'anfittinato Rastat l'appuntamento con la musica con il festival della fortuna a questo punto non mi rimane altro che ringraziarvi augurarvi un buon ferragosto a nome mio e anche di tutta la redazione e la squadra di Fano TV arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.